ciao a tutti bentornati in questo nuovissimo video vlogmas ricopriamo tre giorni perché in questi giorni ho dovuto fare il vaccino quindi abbiamo lasciato oggi fa quattro mesi di vita e la francesco oggi sento lo scia e abbiamo tre per il Rocher collection edition vai vai via e tu fai le pernacchie due pernacchioso allora partiamo abbiamo detto l'undici da l'undici ok eccolo qua il Ferrero Rocher amaro apri anche l'altro già il dodici amaro siamo già due gli amari anche Sant'Orochia oggi allora tredici Ferrero Rocher normale a questi sulla sua pratica e questo no in questi li fanno piatti li fanno il dodici non ho capito il passato la parte di sopra anche tu sei ancora presso tu sei ancora giovane non c'è l'ho più già mangiata prima non c'è la mamma non c'è la cucina, abbiamo filo e credito la solla metà adesso vai a fare un lavoro con papà dopo due amare un po di dolce in bocca questo video è tutto noi ci vediamo domani per un nuovo video vlog iscrivetevi al canale io Francesco vi aspettiamo e il papà e domani mamma vi faccio vedere le luci in Natale ho fatto un shopping su Shining quindi adesso due cose sono in lavatricio vi vediamo domani prossimo video ciao ciao ciao